In questo video voglio mostrarti 5 profumi commerciali di altissima qualità, perfetti per questo inverno. Iniziamo il quinto posto per uno dei profumi più chiacchierati del momento, ovvero Spice Bomb Extreme di Victor & Rose. Questo è un profumo potentissimo, dalle prestazioni atomiche, è uno speziato fresco, abbiamo praticamente un cuore di lavanda e vaniglia e di tabacco. Quarto posto per un classico della profumeria, ovvero Isalaurant Kuros, non è più quello di una volta ma resta sempre e comunque un grande profumo. Questo è un profumo molto vintage, un profumo che per un quarantenne praticamente ricorda la sua giovinezza, è un profumo muschiato, animalico, talcato, molto mielato, un profumo del tutto unico, è stato imitato nel corso degli anni ma mai nessuno è riuscito ad eguagliarlo, semplicemente stupendo. Terzo posto invece per un profumo di cui non parla assolutamente nessuno, nell'anonimato più totale, ma invece è un grande profumo, Bulgari Man Terre Essence. Questo è un profumo perfetto per l'ufficio, il maestro Moriglia se non sbaglio un colpo, è un profumo agrumato, terroso, con un bellissimo cuore di vetiverre ed iris, un profumo muschiato, stupendo, molto aromatico, veramente la fine del mondo. Al secondo posto per me il profumo che non ti aspetti, un profumo di cui non parla assolutamente nessuno, ma che secondo me è un sempreverde, un grande classico, un profumo eccezionale di un grande maestro, ovvero Alien Man di Mugler. Questo è uno speziato fresco, legnoso, aromatico, ambrato, con un bellissimo anice che si sente, che dura per tutta la durata del profumo, è anche leggermente cuoiato, veramente top. Al primo posto della mia classifica, quello che secondo me è il miglior commerciale al mondo, in assoluto, ovvero Savage Elisir, semplicemente un profumo galattico, un profumo di nicchia all'interno di una boccetta commerciale, strepitoso. Questo è un profumo che sa di pulito, è uno speziato fresco, molto metallico, perché contiene un cuore di lavanda in connubio con la cannella, con la noce moscata, con il cardamomo e con la liquirizia. È molto ambrato, ha un cuore impavido, terroso, col vetiver e col paciuli, ma anche molto cremoso, con il legno di sandalo, semplicemente top.